Pensiamo a una discussione, una discussione che sia costruttiva. È un esercizio sfidante ma anche arricchente. Soprattutto è un esercizio che, per essere fatto come si deve e non parlando di aria fritta, richiede un certo grado di preparazione. È facile allora capire quali sono i punti cardine dell'evento di apprendimento della discussione, analisi e approfondimento dei contenuti, comunicazione efficace ed assertiva, valutazione dell'argomentazione e dei diversi punti di vista. Un'attività completa insomma. Se poi aggiungiamo che, se ben gestite, le attività di discussione portano alla creazione di un ambiente aperto al dialogo, abbiamo tutta la lista dei vantaggi. Ed è proprio questo insieme di elementi che un docente dovrebbe ricercare nell'inserire la discussione all'interno del proprio corso. Ma come può sostenerla al meglio? Anche in questo caso, proviamo a seguire passo passo gli step per la progettazione di un'attività di discussione, identificando le possibili azioni a supporto che il docente può mettere in campo. Nella prima fase, il docente definisce le regole del gioco, di fatto il corrispettivo del patto d'aula. Per avviare al meglio il processo, è bene che il docente comunichi in modo chiaro linee guidare a seguire a tutti i nodi della rete coinvolti. Possono essere anche solo delle indicazioni sintetiche ed eventualmente co-costruite con gli studenti, ma l'importante è che tutti siano informati, ad esempio, su quali saranno le regole di partecipazione, su come verranno svolte le attività, ma anche con quali finalità, se e come le attività andranno a influire sulla valutazione e così via. La seconda fase corrisponde alla preparazione della discussione. La si può scomporre su due fronti principali, supporto agli studenti e previsione delle linee di sviluppo. Come abbiamo detto, la preparazione alla discussione in termini di contenuti è fondamentale per la buona riuscita dell'attività. È quindi nell'interesse del docente stesso che gli studenti svolgano un lavoro preparatorio. Come supportarlo? Il docente può, per esempio, guidare la rilaborazione dei materiali presentati in lezione, proporre domande a cui cercare risposte o scenari che presentino le problematiche da affrontare. O ancora, può chiedere agli studenti di arrivare alla discussione con un breve documento che riporti evidenzi e dati a supporto di un problema, oppure di stilare una lista di domande collegate a un tema specifico che vorrebbero discutere. Questo lavoro, poi, può influire anche sulla motivazione degli studenti, riducendo alcune delle possibili barriere alla partecipazione attiva. I partecipanti, infatti, sono più propensi ad intervenire nella discussione se si sentono pronti. In questa fase preparatoria c'è poi anche l'aspetto della definizione del focus della discussione. In che senso? Per evitare che gli studenti divaghino e perdono di vista l'obiettivo dell'attività, è utile che il docente pensi anche a quali potrebbero essere le linee di sviluppo della discussione, così da guidare gli studenti, se e quando serve, con domande mirate o punti di riflessione. Si passa poi alla terza fase, quella dell'attività di discussione vera e propria. Una volta che il docente ha avviato la discussione, è bene che monitori e faciliti lo svolgimento dell'attività e, come per ogni pratica didattica, che sia pronto in caso di imprevisti con alternative per ravvivare o focalizzare la discussione. Mettere in atto il lavoro di progettazione, quindi, sia per quanto riguarda le linee di sviluppo che per attività specifiche con cui intervallare la discussione. Ad aiutare il docente ci sono sempre tutte le dimensioni d'aula. Ad esempio, si può partire da discussioni e coppie di confronto su un tema specifico e proseguire poi con discussioni in piccoli gruppi in cui il risultato venga messo in comune. Oppure, si può iniziare l'attività con un brainstorming che convolga tutta la classe per poi approfondirne gli aspetti in piccoli gruppi. Quarta e ultima fase, la conclusione. Anche in questo evento di apprendimento, la conclusione è da pensare come un momento utile per chiare le somme e mettere in prospettiva quanto è emerso dalla discussione. È quindi utile che il docente preveda un momento esplicitamente dedicato a sintetizzare e mappare quanto è emerso e, perché no, magari integrandolo anche con uno specifico spazio digitale. Esempi di attività? Un'idea potrebbe essere un questionario riflessivo oppure un one-minute paper, cioè l'annotazione in 60 secondi di risposte a semplici domande su alcuni degli aspetti emersi. Pensiamo poi a come il wrap-up finale risulta essere estremamente utile anche al docente stesso. Le conclusioni tratte dall'attività di discussione possono infatti consentire di usare un feedback dai propri studenti. Così facendo, anche il docente può avviare un processo di metacognizione e valutazione informale sui punti di forza di miglioramento dell'attività.